Questa è Piazza Salotto, perché si è rotto. Toro Ito, come si chiamava. Toro Ito. In principio era Toio Ito, grande architetto internazionale, con la sua opera, lo huge wine glass, e l'implosione, le vicissitudini che seguirono, ed ora la decisione dell'amministrazione comunale di Pescara. Piazza Salotto si prepara ad accogliere un'opera frutto dell'artista Remo Saraceni, che porta sul luogo la sua fontana musicale interattiva, il Big Piano, che secondo la Giunta Masci diventerà un'attrazione per tutti i pescaresi, e lì troverà a destinazione il più grande pianoforte a pavimento mai creato, che sostituerà lo huge wine glass di Toio Ito. Ma i cittadini che ne pensano? Si ricorda il calice di Toio Ito, immagino di sì. Sì, penso di sì, 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 mi ricordo. Adesso l'amministrazione comunale, al posto del calice di Toio Ito, vuole mettere questa fontana con pianoforte. Le piace? È una bella idea, sa, perché Pescara è una città molto innovativa, di conseguenza io vedo questa fontana molto bella. Bello, sì. Si può fare, si può fare, al posto di quell'erba là così, che tanto ci vanno solo i cani e basta. Al posto di Toio Ito, ma le piaceva il calice di Toio Ito? No, assolutamente. Nonostante fosse un architetto internazionale. No, possa essere quello che gli pare, ma non vedevo la cosa bella. Con quel calice rosso l'ho, insomma. Ma sono io d'accordo, anche io sono d'accordo. Sì, sì, mi piace. Così come la vedo sulla foto, poi non so la realizzazione, fino a che punto può essere quella giusta, quella vera. Bella, mi piace. Mi piace di più la fontana. Piuttosto che il calice. Il calice. Sì, sì. Beh, è una bella idea. Comunque rinnovare la piazza, secondo me, è sempre qualcosa di buono. Cioè, porti anche un po' di turismo, un po' di movida. È bello. Le piace? Sì, 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 mi piace. Come idea le piace? Sì. Lei? Idea è bellissima. Sì. Mi, diciamo. Dipende, insomma, ecco. Sembra che sia una fontana musicale, luci, come vedi anche i tassi del pianoforte. Sì, è vero, sì. Lo riflette molto anche qui, come architettura. Ma io lo vedo bene. Ma il calice di Toyoito, artista, architetto internazionale, alla fine... Sì, è vero che artista era. Doveva pure avere delle precauzioni. Però forse non è che è dipeso da lui. Adesso, insomma, ci sono anche delle azioni giudiziarie in corso, credo. Cioè, lui l'ha progettato. Però io le chiedo, l'opera le piaceva o no, sinceramente? L'opera in se stesso, sì. Era artistica, cioè. Però questa fontana non le dispiace? Non mi dispiace. Allora, Alessa, senza mascherina perché sta facendo footing, diciamolo, ecco. Senta, il Comune vuole mettere questa... L'ho metto stamattina. Cosa ne pensa? Beh, tutto quello che abbellisce la città va bene. L'importante è che non faccia una cosa chicci come un'altra volta. Da allora si chiama Piazza Sarotto, perché si è rotto, no? E Totoroito, come si chiamava. E Totoroito, come si chiamava. E Totoroito, come si chiamava. Quindi, ok. Lo abbiamo anche ribattezzato. So che si rifarà anche la Porta del Mare, entro l'anno prossimo. Lei è formatissima. Beh, sì, faccio parte di un paio di fondazioni, quindi. Quindi, insomma, lei dice che bisogna abbellire la città. Sempre, assolutamente. Mentre andava in la fontana, con il vento che girava a tramontana.